del passo del falsare che lo stiamo salendo in su per la cima del piccolo lagazzuai che arriveremo a 2778 metri Rocco non lo sa tra poco lo saprà però si suda e la nebbia ci siamo mettendo il costume la nebbia è tanto qui stiamo salendo dal piccolo verso il piccolo lagazzuai questo percorso è sempre nebbioso però come vedete ci sono scalatori ho già quota 2319 e Rocco già 20 agosto di sabato scusi tutta la giornata 20 agosto si tutta la giornata va bene andremo su per il piccolo lagazzuai anche la zona di guerra era il confine del fronte baglioni italo austriaco la camera si giri prego è tutto nascosto è tutto nascosto qui la temperatura è scesa a 12 gradi vedere 2319 metri di livello spero fra un'ora e mezzo circa di essere tornato a 3 metri sono 10.25 12 gradi e mezzo stiamo salendo sopra adesso c'è una deviazione che può fare le galleria di guerra il lagazzuai attraverso il tunnel e il lagazzuai attraverso la scuola via normale stanno vicinando in quota questo finirà tutto il passaggio fatto c'è molta nebbia percorso saliremo sempre su sul piccolo lagazzuai ecco qua un gruppo stanno proseguendo c'è nebbia travenazze 2.503 metri dopo si va verso il piccolo vediamo l'altimetro quando sbagliato qui segna 2.509 metri 10,3 di temperatura 11 meno 7 e dopo si deve salire su per questa via per arrivare in cima al lagazzuai ora facciamo una sosta ci sono le pecore d'alta quota siamo ormai vicino al rifugio a gazzuai come vedete qua giù descrizione di fronte questa grotta qui dall'alto c'era le sacchette di sabbia si controllava il passo del franzarego vedete ecco qua il parcheggio effettivamente c'era un controllo strategico della situazione questo è il passo del franzarego dalla punta del piccolo lagazzuai che era su di 2.778 metri purtroppo partiamo con la scena lagazzuai vediamo secondo altimetro 2.778 metri 8,7 gradi sono le mezzogiorno 25 e questo in cima della cazzuai c'è una croce con i fiori la croce c'è una dedica memoria dei caduti sulla cazzuai nella guerra del 15 18 c'era il fronte italo l'austriaco facciamo una panoramica purtroppo c'è molta nebbia come vedete qui intorno c'è una panoramica purtroppo c'è molta nebbia come vedete qui intorno si saliva l'ultimo tratto questo è il rifugio della cazzuai ora riscendiamo di nuovo una via che in 5 minuti ci ha riportato al passo del franzarego di 2.117 metri